La nuova area mercatale sorgerà a pochi passi dallo svincolo Agropoli Sud su un terreno di 25.000 metri quadrati, dei quali la metà saranno adibiti a parcheggio e l'altra sarà predisposta per l'area vendita. Avrà un presidio di polizia locale, un impianto di videosorveglianza all'avanguardia e pubblica illuminazione. Sarà un luogo che non servirà infatti solo per lo svolgimento del mercato del giovedì, ma ospiterà anche spettacoli circensi, fiere e concerti. L'ente comunale riconoscerà ai 14 proprietari 300.000 euro di indennità e di esproprio, come previsto nell'accordo transattivo, il quale ha contemplato che il comune rinunciasse ad operare un centro outlet del gusto, che sarebbe dovuto sorgere nella medesima area, come stabilito con un atto deliberativo del Consiglio, poi rievocato lo scorso 30 settembre. Quest'ultima operazione di fatto ha perfezionato l'atto transitivo favorendo l'avvio delle operazioni. Per quanto riguarda il cimitero saranno invece costruiti 160 loculi lastra quadrata, 40 loculi a lastra rettangolare, 20 edicole funerarie, ognuna costituita da tre loculi a lastra rettangolare e tre ossari, 18 aree per la costruzione di cappelle. Saranno costruiti su una superficie pari a 2560 metri quadrati circa. Difatti le strutture funerarie risultano già tutte vendute.